In questo periodo particolare che stiamo vivendo, le biblioteche dell'Unione Pian del Bruscolo sono comunque riuscite ad organizzare dei laboratori artistici ed espressivi, proprio qui nelle nostre biblioteche. Verranno svolti per la fascia di età di bambini da 6 a 10 anni, in piccoli gruppi, rispettando tutte le norme anti-covid. Questi laboratori si svolgono grazie alla collaborazione, quindi Biblioteca Unione Pian del Bruscolo, la cooperativa Le Macchine Celibi. Questi laboratori rientrano in un progetto in collaborazione con la Regione Marche. Sono dei mini percorsi laboratoriali di 5 incontri nella Biblioteca di Morciola e 5 incontri nella Biblioteca di Montecchio. Questi laboratori erano stati proposti anche l'anno scorso nella Biblioteca di Tavuglia e quindi avevano avuto molto successo, presenza di molti bambini. Quest'anno purtroppo le presenze sono limitate e quindi i gruppi saranno formati da massimo 5 bambini. Saranno tenuti da un'esperta, Giancarlo Guccioni, che è fotografa e fotoarte terapeuta. Questi laboratori hanno come titolo fotostorie fantastiche, dove partendo da attivazioni diverse, i bambini dovranno esprimere il loro mondo fantastico attraverso tecniche diverse, come ad esempio il fotocollage, quindi partiranno da delle illustrazioni, da delle immagini e con semplici tecniche di scrittura creativa dovranno creare delle storie che rientrano un po' nel loro mondo fantastico. Questo mini percorso poi si concluderà con la realizzazione di un fotolibro che i bambini potranno vedere e rivedere, perché è comunque stato creato da loro stessi. Quindi l'obiettivo, la finalità di questo mini percorso è appunto la scoperta di se stessi, comunque stimolare la loro immaginazione e fantasia. Per quanto riguarda invece la situazione della biblioteca, e quindi parliamo in linea generale, come si sta comportando la gente con ad esempio venire a prendere libri oppure per lo studio o l'utilizzo dei pc? Le biblioteche dell'Unione Pian del Bruscolo, in questo periodo di particolare difficoltà, comunque continuano a svolgere i loro servizi. Le biblioteche sono quattro, le biblioteche di Morciola, Montecchio, Tavuglia e Sant'Angelo in Lizzola. Abbiamo molta richiesta di presenze all'interno delle nostre biblioteche, anche se gli ingressi sono limitati, contingentati, sempre su prenotazione. Gli utenti possono liberamente consultare i testi, sempre igienizzando le mani, rispettando tutte le norme previste. Per quanto riguarda le aree della zona lettura e studio, possono essere utilizzate però sempre su prenotazione e con posti limitati, tenendo conto del distanziamento previsto.